Federico, innanzitutto ben arrivato. Ti chiedo come è maturata la possibilità di questo trasferimento ad Arezzo a neanche metà stagione per la Serie D. Grazie per questa accoglienza. Appena il mio procuratore mi ha chiamato e mi ha detto che ci stava la situazione a Arezzo, non ho esitato a dirgli di no. Ho detto subito di sì, andiamo, perché so che società è, so le ambizioni di questa società e sono qui per vincere ovviamente, non ci sono dubbi su questo e spero di dare il mio contributo per portare questa piazza veramente dove merita. Tu sei un giocatore che nasce come trequartista, sempre dotato di grande tecnica, adesso fa il play, come è maturata questa evoluzione tattica nella tua carriera? Cinque anni fa, il periodo di gennaio, mercato di gennaio, dalla Torres mi sposto al Savoia e lì ci stava il mister Papagni che alla prima subito al debutto mi mette in campo come vertice basso a Benevento. Poi da lì ho sempre fatto il vertice basso. A Molfetta tra l'altro avevi ereditato la maglia di Strambelli che adesso ritrovi, non so se ci hai già parlato con lui, se è un giocatore che conosci, immagino, vista la vostra comune origine, che cosa pensi di lui e che impatto hai avuto con lo spogliatoio? Sì, con Nicola sono un amico anche perché siamo della stessa città. Spero che ci faccia sognare in grande perché lui è un giocatore che ha queste potenzialità. Arribi in una squadra che non vince dal 31 ottobre, che ha avuto qualche problema di gioco e di risultati ultimamente, ti chiedo se questo a un certo punto ti aveva quasi fatto cambiare idea. Non vado a guardare la classifica anche perché ci sono parecchie partite da qui a fine campionato quindi faremo di tutto per raccorciare in queste cinque partite da qui a Natale e sicuramente dobbiamo fare qualche vittoria.